Oggi a Nostivu parleremo dei dati purtroppo ancora negativi dell'artigianato nel Portogruarese, poi parleremo dei lavori al parcheggio dell'ospedale di Sandona di Piave, del riconoscimento al comune di Caorle di un premio per l'ecosostenibilità ed infine del Portogruaro Calcio che è stato presentato nei giorni scorsi in municipio. Questo è molto altro a Nostivu. Buonasera e ben ritrovati con il Tg di Nostivu. Con il recente rinnovo degli organi dirigenziali di confartigianato, imprese e veneto orientale, l'associazione di categoria ha reso pubblici alcuni dati sull'andamento del settore nel Portogruarese. Sentiamo il servizio. E' un quadro ancora negativo quello sull'andamento dell'artigianato nel territorio del Portogruarese che emerge dall'analisi svolta da Infocamere, Confartigianato Imprese, città metropolitana di Venezia. Dal 2017 al 2018, a livello provinciale, si è verificata una flessione dell'1,5% delle aziende attive, corrispondente a 285 unità in meno. Il mandamento portogruarese rispecchia il quadro provinciale. A fine 2017 erano attive 2.445 imprese artigiane, calate a 2.399 a fine 2018, il 2,28% in meno. All'andamento particolarmente negativo, segnalato principalmente nei territori comunali di Teglio Veneto, di Fossalta di Portogruaro, di Concordia Sagittari e di Caorle, calcolato sempre nell'anno 2018 rispetto al 2017, si contrappone la variazione percentuale positiva del numero delle imprese dei comuni di Cinto, Caomaggiore e Gruaro, dove si attesta un aumento in entrambi i casi consistente più virgola 41% a Cinto e più virgola 26% a Gruaro. L'impegno annunciato da Confartigianato Imprese Veneto Orientale è quello di supportare l'imprenditoria giovanile, intensificare le attività d'incontro con gli associati, migliorare l'azione sindacale e sviluppare le sinergie già avviate con le altre associazioni di categoria del mandamento, con particolare attenzione alla lotta al lavoro abusivo, ai mancati pagamenti, all'appesantimento burocratico e delle imposte e ai rapporti con le istituzioni locali. Nuova pavimentazione, nuovi alberi, un aumento di 50 posti auto che acconsentiranno la migliore gestione delle soste e della viabilità interna, ma anche nuovi parcheggi nei pressi dell'ingresso dell'ospedale per le mamme che devono rivolgersi con i propri figli al servizio vaccinazioni pediatriche. Con un investimento di 165 mila euro è stato dato avvio al rinnovo del parcheggio dell'ospedale di San Dona riservato al personale con accesso da via K. Boldu. In questi giorni è stato completato il primo stralcio dei lavori ed è iniziato il secondo, seguirà infine un terzo stralcio. I lavori verranno completati presumibilmente ad ottobre. La Regione Veneto insieme al Consorzio BIM propone un intervento di taglio selettivo della vegetazione nelle aree golenali del Piave con l'obiettivo di eliminare quelle situazioni potenzialmente problematiche in caso di piena. Sentiamo. All'interno del contratto di fiume del Piave, che prevede una serie di attività per la tutela dell'ambiente idrico e la prevenzione del rischio idrogeologico, la Regione Veneto propone un'attività di taglio selettivo della vegetazione lungo le aree golenali. Per taglio selettivo si intende l'eliminazione di quelle situazioni potenzialmente problematiche in caso di piena, mantenendo invece tutta quella vegetazione che stabilizza e dà solidità alle rive. L'attività coordinata dal BIM riguarda tutti i comuni lungo l'asta del Piave. La Regione prevede di effettuare queste operazioni gratuitamente per tutti i proprietari, purché aderiscono al progetto, compilando l'apposita domanda entro l'11 ottobre. L'amministrazione di Sannona di Piave sta provvedendo a contattare direttamente i proprietari dove questo sia possibile. Inoltre, per chiarire meglio i termini e le modalità dell'intervento, sarà proposta una serata informativa che si terrà a settembre all'auditorio Undavinci. La pulizia delle rive rappresenta un passo in avanti, aggiunge il sindaco Andrea Ceresera, ma gli sforzi vanno rivolti soprattutto alla realizzazione degli interventi strutturali nel medio corso, innanzitutto completando la progettazione esecutiva delle casse di espansione per le piene del fiume in corrispondenza delle grave di Ciano e Spresiano, progettazione finanziata a fine 2017 con un tributo ministeriale di quasi 2 milioni di euro. Ci occupiamo ora della Spiga Verde, il riconoscimento assegnato da FE Italia ai comuni italiani più attenti all'ecosostenibilità. Anche Caorle è rientrata nel novero delle 42 località più green d'Italia. Non solo la bandiera blu, su Caorle da oggi sventola anche la Spiga Verde, altro prestigioso riconoscimento assegnato da FE Italia e da Confagricoltura ai comuni rurali italiani più attenti all'ecosostenibilità. Tra gli indicatori presi in considerazione dalla commissione esaminatrice vi sono ovviamente lo sviluppo sostenibile, ma anche il corretto uso del suolo, la presenza di produzioni agricole tipiche, la sostenibilità e innovazioni in agricoltura e la qualità dell'offerta turistica. In tutta Italia sono stati 42 i comuni rurali ad aver soddisfatto questi requisiti e Caorle è una delle tre località venete ad aver ottenuto il vessillo. Le altre due sono Porto Tolle e Montagnana. Come ha sottolineato il sindaco Luciano Striuli, per Caorle si tratta della quarta Spiga Verde consecutiva, che non solo va ad aggiungersi alla bandiera blu, assegnata sempre da FE Italia alle località balneari, ma anche alla bandiera verde, assegnata dai pediatri italiani alle spiagge a misura di bambino. L'amministrazione comunale di Meolo ha dato avvio al piano di manutenzione del cimitero comunale, visto lo stato di estremo degrado ed incuria in cui versava ormai da troppo tempo. La struttura sarà temporaneamente chiusa al pubblico dalle 6.30 di domani, martedì 30 luglio, alle 6.30 di giovedì 1 agosto. È stata presentata venerdì la stagione 2019-2020 del Portogruaro Calcio. Sentiamo l'intervista. È un risultato fantastico, siamo orgogliosissimi, noi abbiamo preso in mano questa società esattamente un anno fa domani e abbiamo fatto delle dichiarazioni di un certo rilievo e diciamo che ci è andata bene. Abbiamo vinto il campionato, l'abbiamo vinto da imbattuti e quindi un risultato fantastico per Portogruaro. Appunto sono passati tanti anni da quando il Portogruaro ha vinto l'ultimo campionato di calcio. L'ambizione è assolutamente quella di primeggiare, ci sono altre quattro squadre che ci sono rinforzate tantissimo e quindi sarà una bella battaglia anche quest'anno. Noi crediamo di aver fatto una campagna acquisti straordinaria e vedremo come andrà. faremo quattro amichevoli secondo me molto importanti perché incontriamo squadre della nostra categoria, poi il Pordenone che fa una delle prime uscite come squadra di Serie B. Siamo orgogliosissimi di ospitarli qua al Mecchia e speriamo che accorra la gente di Portogruaro numerosissima. Questa era la nostra ultima notizia, io vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che NoStv è presente su Facebook, Youtube, Instagram e sul 13TV che potete trovare sul 13 del vostro telecomando o sul 605. Grazie ancora e arrivederci.